ventesima edizione per la sagra della fogliata e della torta a sellano dal 10 al 14 agosto l'appuntamento è con il gusto e le protagoniste sono due torte tipiche della tradizione una dolce la torta e una salata la fogliata nel villaggio della protezione civile in località villa magina stand gastronomici aperti dalle 19 serate danzanti con orchestra dalle 21 musica live dj set nello spazio giovani dalle 23